Ups, a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qua solo per voi, per fare il trigger numero 4 del calendario dell'avvento. Quindi mi raccomando, indossate un paio di cuffie o auricolari, stendetevi sul vostro letto e chiudete gli occhi, va bene? Oggi, come trigger di oggi, ho scelto i guanti, quindi me li metto e torno subito da voi. Io neri li trovo carinissimi i guanti. Alla prossima. 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 Cucu. Il video di oggi purtroppo finisce qua, ma se voi volete potete restare ancora insieme a me, perché ora vi lascio di qua il video di ieri, 3 dicembre, di qua una mia playlist e qua da qualche parte il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che va vogliato, ok? Alla prossima. Quindi noi ci vediamo domani e buonanotte. Buonanotte. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.